aspetta il gilettino stavo dimenticata beh metto sta porcheria qua no no non la voglio questo perché la butto mi devo comprare il gilettino aspetta 520 ci va così male ok reserve 524 insomma livelli piccoli livelli piccoli a fin fine ci hanno stuprato subito tana eva o porca trova quella è una buona mappa per fare di livello 2 ma dai è entrato montana che non esce mentre andiamo allora io c'ho la tigna quindi non ti puoi sbagliare la tigna cos'è cos'è calè cos'è calè come non lo sai cos'è la tigna no capelli piosati perché tu sai perché tu sai cos'è la fregna è uscita la gruppa comunque ah porcaccio già dentro ma vediamo dove spawniamo sicuro che spawniamo dove c'è il dom nell'altra parte la parte opposta del dom in culandia detto anche culandia o sotto il dom sotto il dom non sarebbe male è tutto lag tutto la è in culandia 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 ci dovremmo trovare qualcuno che arriva da destra chi spara ma si sparano tra di loro è stato ucciso da chi eccolo lassù l'ho ferito tantissimo andiamo 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 dai vai a fare il culo vai a fare il culo dai qua dentro sotto sotto e si è buttato sotto e nella finestra forse prima che sicuri eh sono io che corro è qua dentro è qua dentro è qua dentro non può non può entrare vieni qua dentro vieni qua dentro che abbiamo fatto un casino no la mitraglietta finchia è livello 22 eh gli ho dato tre colpi belli assestati era feritissimo non riuscivo più a correre infatti c'è una capace però senza colpi quindi non lo so ah infatti io ho aumentato l'uminosità perché non ci vede una sega allora fammi vedere quante muni mi rimangono ok oh andiamo sopra andiamo sopra qua si sono uccisi tutti abbiamo lo spazzolino ah l'altro è laggiù andiamoci a vedere l'altro va ha una pistoletta grazie bella livello 28 era questo caricatore buono ah la mia stessa pistola stesso caricatore andiamo andiamo ah sei già salito bravo bravo infatti stavo per dirtelo sali occhio che non ci sia qualcuno dentro da aspettarti perché abbiamo fatto un casino abbassati chiudi la porta uh buono ci buttiamo sotto vado avanti ok non ce n'è uh quanta roba c'è il motore scheda video si c'è la scheda video baby la prendo io o prendi te tu prenditi il motore che vale 40.000 uh c'è il gameboy c'è il gameboy l'ha ucciso tu sei morto ma chi l'aveva sentito questo è andata un po' di sfiga sai come sta bestemmiando questo livello 34 madonna eh figlio mio devi fare un vabbè t'ha preso alle spalle se fossi sono stato fortunato io eh che se stavo lì io mi avrebbe preso me però peccato per tutta sta roba mo quanta cazzo di gente c'era qua tutti qua erano tutti qua abbiamo la stessa pistola e il motore oh il gameboy me lo prendo e lascio il motore potrei lasciare le pistole la tua piastrina prenditi il gameboy la scheda video te li metti nel pouch e fai già hai mezzo mi dico io non c'ho più muni però cavo mi prendo il motore sì 40.000 di motore poi cosa c'ho che cazzo c'è la mia voce sto cambiando voce fammi vedere se c'è una scheda video oppure nei computer sono già tutto pieno comunque eh scheda video 330 motore 440 e che c'è una luce della madonna sono ferito un pochetto il petto vediamo se ce la faccio andare fino in estrazione ne abbiamo uccisi tre già oh cioè tre morti sai che ti dico io vado pure in infermeria ma sì famose l'infermeria peccato che sei morto bastardo no vabbè cosa ho trovato che hai trovato? un altro affare che costa 60.000 io santo ho buttato la tua pistola mi spiace mi sa che i stermer stanno per morire di nuovo no perché perché uh devo andare a estrarre allora non dirmi così che non è vero stavano bloccando mi metto a correre scappo via velocissimo perché di nuovo se no non posso estrarre di nuovo c'ho un botto di roba c'ho almeno 600 eh di nuovo 600.000 di roba c'ho ora stanno andando se non ho bloccato le asti era tutto lancoso devo abbassare la luce che se no mi brucio gli occhi ok boh diamo l'estrazione speriamo di non incontrare nessuno che nessuno mi rompa i coglioni please che so carico so carico c'è un botto di roba tutta roba buona adesso ci manca il botto infame che mi uccide di nuovo sti botto sono delle cacate ma quando sei lì per lì che devi estrarre ti uccidono poi adesso è giorno ti vedono anche bene e ti prende l'ansia sto buco della fogna fammi scappare come un ratto eccolo eh cazzo non muori scappo scappo scappa 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 Dave no si l'ho ucciso uno scappa Dave dio 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 non c'ho più muni via via tre secondi due secondi dai ok è uscito fuori eh la madonna sto andando verso l'insegna io boh non è venuto nessuno qua strano namo che dici andiamo andiamo vai andiamo a vedere se c'è una scheda video se non c'è già altra gente perché possono aver fatto il giro quasi espostissimi in questi momenti corri salta manco il tempo di guardare madonna era immaginabile shh shh questo è uno di quei momenti in cui tutto si ferma e si riduce a ogni istante ci stiamo guardando faccia a faccia pistola contro pistola io la punto a lui e lui la punta a me e in un istante si deciderà il corso della nostra vita chi sopravviverà? io? lui? mille sono i pensieri che ci affliggono no non è un cazzo vero stavo solo pensando a fargli il culo su ca***o un 36 era una bella roba? no no però era sicuro che mi aveva fatto mi ha lanciato una granata io sono stato fermo come se fossi morto è venuto vabbè abbiamo la stessa arma quindi mi ha dato un po' di munizioni c'ha la picca quella figa io sto morendo sto sanguinando quindi fra un po' muoio porca troia vabbè io faccio che prendere le tue pistole poi te le ridò poi te le riprendo ma sai come sta bestemmiando quello? dio se vedo tutto sflesciare ho preso un painkiller mamma mia ah c'è uno che arriva no non c'è uh quante belle cose c'è il motore scheda video no ah vabbè tanta sofferenza per così poco un cazzo di motore infermieria infermieria altra morfina ma ci fosse una cura cioè quando le cure ti servono non le trovi eh porca troia eh ma ho trovato milionate di bende ma non una cura però dico ci va una bella sfiga in tutta l'infermieria non ho trovato un sale wow niente un car niente milionate di bende un sacco di siringhe che costano gare oh l'ho trovato ok buono ah c'è uno qua su che culo boh vado verso l'estrazione alla fine infine solo il motore l'ho trovato niente di che ok estratto arma c'è il leone c'è il leone minchia ma non ce lo possiamo prendere tre per due centocinquantamila andiamo nell'altra va più di sta porta eh devo portarlo da te eh ma muori sempre tanto stai tinto guarda il computer no che schifo solo rubli oh vaffanculo li butto andiamo qua e andiamo sotto dai andiamo va che qua non c'è niente andiamoci andiamoci oh oh madonna pensavo ci fosse uno ho visto una sagoma e poi di colpo ho sentito lo sparo sei sicuro che vuoi andare avanti ah c'è la tua pistola se vuoi uuuuh vss non ci credo to' la tua pistola va che te l'avrò te l'avrò portata vediamo quanti colpi full buono questo faccio male eh sì 20 colpi però vabbè un nemico lo puoi fare fuori allora andiamo vado a vedere sotto io shh player player arriva dalla porta davanti a noi l'altra quella opposta eccolo morto? sì 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 baby vediamo se vediamo se c'è un amico la te ti aveva visto? no no era dietro scappato ok vedi ah uh uh ah no mi sembra no mi sembrava niente livello 25 boh becca tra te guarda che belle armette due cacate valuta se li vuoi ah niente documenti porca cacca bitcoin è buono mi sembra che valga 150 eh sì più o meno lo vediamo infatti c'è un archivo ma annaccio niente documenti nella cassaforte cosa c'era? eh sti cosi sto bitcoin sa mi apri il computer? non me lo apri già fatto ah già fatto allora vediamo qua cosa facciamo adesso? c'ho il c'è il vss poi per il resto non c'ho niente mi spiace perdere l'vss però d'altronde lagone d'altronde non ci abbiamo un cazzo boh possiamo andarci a comprare estrazione eh ma è giorno eh non passare sul ferro purtroppo è giorno boh non so estraiamo oh ti vuoi fare sti archivi non lo so eh vado nella casetta qua davanti io oh c'è uno zaino attento può essere una trappola oh mio dio cosa c'è? oh c'è l'esa secondo me è una trappola stogliti prima possibile no no mica sono scemi a lasciarla lì uh 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 sono sono curioso di sapere l'ha chiesto trappola allora c'è l'esa eh tu c'hai il giubbino con quattro posti vieni chiudi chi è che ha sparato? chiudi 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 hai il giubbino con quattro posti? si si to to liberati e prendilo sento rumori mannaccia dove l'hai messo? qua qua davanti qua davanti hai i documenti pure tu hai i documenti? no ah ok allora io butto il giubbino perché tanto non posso non so non posso estrarre vado fuori tu aspetta non lo so perché l'han lasciato secondo me non poteva estrarre è stato ucciso un malinteso va a sapere vieni vieni ok sopra non c'è nessuno no l'avevi già controllato vai estrarre vai estrarre qua se le erano fatti le dom te l'ho detto non metterti vicino a me ma il dio santo eh la madonna cioè alle dieci e mezzo di sera ti mangi i cornetti oh dormitori dormitori corri dritto merda non ci vedo una sega dove entrare l'umiosità dai corri perché non corre non ci vedo niente oddio oddio non ci vedo ma che cazzo è l'entrata ok tu stai fermo non stai correndo tu io sto correndo ah buono allora sei te sono entrato cos'è oh cazzo mi sa che sono entrato in quello sbagliato no no sei giusto giusto oddio non sei te oh porca troia non sono io e mi dici che sei entrato in quello sbagliato e sento uno arrivare cosa vuoi che faccio scusa niente c'è una cazzo tu vuoi una pistola beccati la pistola questa vale 40.000 c'è qualcuno c'è qualcuno sì perché ti stai muovendo sta aprendo ah è qua dentro si sta aprendo lo zaino vieni vieni Emma vieni metti mettiti la destra pistolaro 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 andato ok ok ah non pistolaro accettaro prendiamoci un'arma va sperando che ci sia a sto giro no una sola porca troia prendo io a certe volte ce ne sono tre vediamo quante muni mi ha dato pieno il caricatore pieno 46 sei tu no cioè sono io acquacciato vieni nell'armeria vieni perché non so se c'è qualcuno può chiuditi chiudiamoci un attimo ah no c'è qualcuno c'è spugli no aspetta andiamo a vedere se c'è la paracord questo posto è buono mi piace mi piace spawnare qua cioè in questa armeria solo una volta ho trovato una buona arma un M4 l'erbetta che sfonda al pavimento è fantastico no andiamo andiamo all'armeria va allora a sinistra c'è nessuno a destra vediamo oddio oddio era lì che strisciava l'hai fatto? si si no fantastico strisciava da non so quanto c'è un altro? guarda no ok guarda un po' cosa aveva era lì che strisciava vediamo strisciare io non capito che cazzo era no non c'è un cazzo questo avrà detto speriamo che non mi abbiano visto no si è già fatto la paracord vuoi vedere? no no non ce l'aveva e se le ha messo le punch mica scemo sicuro adesso arriva il bot non facciamoci uccidere ma pensate questo era lì era lì che strisciava fantastico andiamo andiamo qua sotto vai vediamo tentiamo la fortuna qua sotto va perché adesso andare a fare il giro dall'altra parte non ce la facciamo si sono già si sono già luttati tutto sembrerebbe di sì tante volte stanno in mezzo a quei macchinari e quindi te ne accorgi solo quando ci passi vai stupriamoci sti posti no ma dico in generale spawna un po' dappertutto qua la benzina aspetta che mi tappo tu sei fuori da sto box io sì chi è che corre non io uno che corre da me da me non lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo oh non muore dov'è è qua di fianco a me dove sparo sta scappando non c'è un cazzo vieni dammi la mano sta scappando vieta è salito sopra ah ok nice ma oggi è la chi è attenzione bot via 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 imboscati 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 porca troia ah finito eh aspetta eh non farti uccidere si curati dove cazzo è andato l'ho ucciso no non mi sembra oh ma oggi è la serata degli accettari sono tre già sono tre accettari che abbiamo incontrato già ma è morto quello lì ah eccolo ah che male fatto? non lo so no è ancora vivo buono buono e ora è morto ok allora continuiamo a luttare che dici? beh apriamo questi boss si si l'M1A fa danno non so quante muni abbia di solito ne ha poche però fa un botto di danno se hanno gli M80 di solito come munizioni mi tappo dimmi se senti passi ah questi ti servono per Jäger tu prenditri prenditri guarda tutte queste tutto sto cibo qua mi sembra che te lo prende Jäger eh mangiamo e beviamo se c'è da bere io mangio mangio e bevo sigarette sigarette zucchero minchia buono latte ah uno lascialo a me ma come cazzo è che è aperto davanti a noi scusa no sarà un effetto ottico lo vedo aperto da qua non lo lascia a me uno? è aperto pure da me ma come cazzo è scusami allora noi stavamo luttando e c'era quello lì che luttava con noi non è una novità effettivamente stavamo tutti qua a luttare in amicizia qua c'è di nuovo il latte non solo vuoi te il latte? ma dimmi te che è aperto qua questo qua stava luttando allora ma pensate e chi cazzo beh immagino di si e si vede che non ha trovato niente di che magari viene solamente per la battita appunto per quelle cose che ti dicevo noi siamo dei morti di fame raccogliamo tutto lui no ma l'abbiamo qua è pieno vediamo c'è eh lì abbiamo trovato eh prenditelo 20.000 rivale uh qua c'è un car il killer mamma quanta roba che c'è è un peccato lasciarlo però sei sicuro il latte vale 12.000 minchia l'LCD vale altri 20.000 eh tolgo il latte lo butto si si prendi prendi eh la cura che faccio il car lo butto guarda faccio così tolmi prendo l'LCD rotto che vale 20.000 il car però mi spiace ah fammo così va lascio il car qua se ti serve non lo so peccato vabbè namo vende ah qua cos'è me propital cioè eh io quasi quasi butto il painkiller uh c'è il filtro mettitolo nel pouch questo 40.000 rivale vedi che conviene controllare oh sembra stranamente pulito uh eccole uno è un bot io lo faccio dai va o lo vuoi fare tu fatto io grazie grazie vedevo che stavi sprecando tutti quei colpi ah qua dentro si non lo vedo ah è sopra dove cazzo è sopra qua dentro in sta stanza no dove cazzo è non farti uccidere sento passi dove è aspetta vieni dietro togliti eh qua è pieno vieni qua dove sono io vieni vieni qua dove vai scappa scappa vai dentro vai qua dentro imboscati allora sono due abbiamo capito che sono due eccolo uno è andato un altro è sulla destra eh quella destra non lo so dove non so aspetta fammi vedere quanti colpi c'ho ancora qualcuno sì allora corro corro verso il camion tu vedi dov'è ok ok l'ho visto eh sì tutto a destra aspetta ok sta correndo lui non è andato via coprimi vieni sì è andato via boh andiamoci dai via 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 aspettate che qua ce ne possono essere altri ok lì c'è il cadaver ma non credo che sia il caso madonna quell'ombra mi ha fatto prendere un infarto gli uccelli che fanno l'ombra di notte è assurdo cioè ma neanche l'uccello devo così freddi fa ste ombre ok pulito mi nascondo come un ratto qua sotto vai